Adizia e papà Il piccolo rifugio sulle Alpi Era la prima volta che Heidi Vedeva il suo nonno Dicendogli che aveva trovato lavoro in un'altra città La zia lasciò Heidi con suo nonno E tornò in città Nonno Alan Che era abituato a vivere isolato Lontano dalle persone In realtà era felice che sua nipote Fosse lì con lui Ma non lo dimostrava ad Heidi L'uomo preparò un letto carino E confortevole per Heidi nella mansanta A Heidi era piaciuto molto Suo nonno già a prima vista E tempi felici stavano iniziando Per lei tra le montagne Quando si svegliò la mattina Conobbe Joseph L'enorme cane del nonno Heidi amava Joseph Poi un giorno Mentre camminava sulle colline Incontrò Peter Un giovane pastore che pascolava le pecore nei prati Non ti ho mai vista da queste parti Già sono appena arrivata Vivrò qui con mio nonna D'ora in poi Nei giorni seguenti Peter cominciò a portare Heidi Con sé nei prati A pascolare le pecore Facevano delle escursioni In montagna insieme Tutto era così nuovo Ed eccitante per Heidi Imparò molto da Peter Su come essere un pastore Anche se non lo dimostrava molto Nonno Alma amava davvero tanto Heidi Correndo in giro e divertendosi fra i campi tutto il giorno Heidi era felice Ma non dimenticò mai di aiutare suo nonno con i lavori di casa E uno dei suoi preferiti Era cuocere il pane nel forno a legna del nonno Spesso portava il pane che aveva fatto alla nonna di Peter E la nonna di Peter in cambio le dava al latte fresco di capra Un giorno l'estate finì ed arrivò l'inverno Quando Peter iniziò ad andare a scuola Heidi restò da sola E spesso si annoiava Era davvero delusa di essere troppo piccola Per andare a scuola come Peter Un giorno la zia di Heidi tornò a prendere Heidi Per riportarla in città Avrebbe avuto l'istruzione in casa Avrebbe lavorato Il nonno fu molto arrabbiato All'inizio non accettò Ma poi pensandoci Si reso conto che sarebbe stato meglio Per Heidi stare in città Ed imparare a leggere e scrivere Ma io non me ne voglio andare via da qui Io voglio bene il nonno Si lamentò Heidi Ma si convince dopo che la zia le promise Che sarebbe tornata in montagna dopo poco tempo Heidi e sua zia arrivarono ad una grande villa Dopo un lungo viaggio in treno Wow! Che cosa grande! Io starò qui! Heidi incontrò Clara La bambina che viveva nella casa Clara non poteva camminare A causa di un incidente Che aveva avuto da piccola In realtà la zia aveva portato Heidi In quella casa anche per fare compagnia a Clara Clara e Heidi andavano molto d'accordo E diventarono subito migliori amiche Non sapendo molto della vita di città Heidi faceva ridere Clara Quando commetteva socchi errori La nonna di Clara era una donna molto rigida e severa Alciati pigrona È ora di studiare Hai ancora tante cose da imparare La nonna di Clara cercava di insegnare ad Heidi molte cose Ad esempio come sedersi in modo appropriato E come usare il coltello e la forchetta a cena E Heidi si vestiva addirittura come una bambina di città Ma non si sentiva proprio agio con quei vestiti Anche Clara aiutò Heidi ad imparare a leggere e scrivere Ad Heidi piaceva molto stare lì con Clara Ma le mancavano troppo le montagne e il suo nonno Heidi non riusciva nemmeno a mangiare per quanto era triste Il suo cuore era pieno di desiderio Il padre e la nonna di Clara si resero conto della tristezza di Heidi E dopo un po' decisero di rimandarla da sua nonna Ma Clara era molto triste per la partenza di Heidi Amare davvero qualcuno significa volere la sua felicità Disse la nonna Infine giunse il momento di dirsi addio Quando Heidi stava per partire sua zia le disse che Clara sarebbe andata a farle visita in montagna all'anno seguente Heidi fu così felice di tornare in montagna Per prima cosa si fermò a casa di Peter sulla via di casa E diede alla nonna di Peter il pane che Clara le aveva mandato Lasciando gli abiti di città Corse a casa ed abbracciò il nonno più fatte che poteva Ed erano di nuovo felici Un po' di tempo dopo Heidi era felicissima della lettera che aveva ricevuto Che diceva che Clara sarebbe venuta a trovarla presto Quando arrivò nelle Alpi a Clara piacque molto Peter Ma lui era poesitante Perché aveva paura che Heidi sarebbe tornata in città con Clara Clara, Peter e Heidi si stavano divertendo un mondo sulle colline L'aria fresca di montagna e di cibi naturali erano molto buoni per Clara Ma Peter diventò molto geloso di Heidi per la sua bella amicizia con Clara A Peter non piaceva nemmeno dover portare Clara con la sedia a rotelle e spingerla in giro Un giorno spinse la sedia di Clara giù per una collina Pensando che questo avrebbe risolto tutto Senza la sua sedia a rotelle e con l'aria fresca di montagna Clara era diventata molto più forte E iniziava anche a camminare lentamente con l'aiuto di Heidi Dopo un po' iniziò a fare piccoli passi senza l'aiuto di nessuno Riesco a camminare! Heidi! È solo grazie a te! Un giorno il padre e la nonna di Clara vennero in visita E quando videro Clara camminare non credevano ai loro occhi Ringraziarono nonno Al e Heidi In quel momento Peter si sentì molto dispiaciuto per ciò che aveva fatto Confessò di aver spinto la sedia di Clara dalla collina Chiedo scusa a tutti quanti voi Quello che ho fatto è stato brutto Ti perdoniamo anche se hai sbagliato Ora lei cammina questo è l'importante Tutti risero con gioia Clara e la sua famiglia promissero che sarebbero tornati l'estate seguente E vissero tutti felici e contenti Molto tempo fa in una piccola città Viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva L'unica cosa di cui si rispiava nella vita Era non avere un figlio Un giorno mentre camminava nella foresta Trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo Proprio il ceppo che stavo cercando Farò una bellissima marionetta Geppetto caricò il ceppo sulle spalle E lo portò al laboratorio Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde E lui sentì una voce provenire dal ceppo Geppetto fu stupito all'inizio Ma poi pensò di essersi sbagliato Continuò ad intagliare Ma poi sentì la stessa voce di nuovo Oh mamma mia sento le voci Devo essere proprio diventato vecchio Geppetto continuò a lavorare Prima fece la testa della marionetta Poi le braccia e le gambe Geppetto finalmente finì la marionetta La misi a sedere su una sedia E cominciò a riordinare E in quel momento sentì un'altra volta la voce Ciao! Geppetto si guardò attorno stupito Ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno Così continuò il suo lavoro Dopo poco tempo La marionetta salto giù dalla sedia E iniziò a ballare nella stanza Vedendo ciò Geppetto fece un grande sforzo per non svenire Sotto cielo Questa marionetta è viva Naturalmente non era un bambino vero Ma di certo rideva Parlava e giocava come se lo fosse Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio Bambino mio Geppetto e Pinocchio Cominciarono a vivere giorni felici insieme Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui Per capire cosa stava succedendo si fece spazio fra la folla Visto che era così piccolo non fece molta fatica a passare davanti a tutti Quello che vide fu un grande tendone colorato Era il tendone di un circo Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro Ma il pagliaccio lo fermò all'entrata Non puoi entrare se non paghi Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola Ma io ho dei soldi Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio Dentro il tendone era molto divertente Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone Ehi! Anche loro sono fatti di legno! Saltando sul palco Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui Il proprietario del circo che stava sopra il palco e comandava i fili delle marionette Fu molto contento di vedere una marionetta vivente Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco! Pensò E appena lo spettacolo finì Catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto E non essere andato direttamente a scuola Così iniziò a piangere Vedendo quanto Pinocchio era pentito Una fata apparve accanto a lui Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre Ma vedo che sei consapevole del tuo errore Ecco perché ti salverò Ma non fare mai più così Pinocchio era molto felice E asciugò le lacrime Ma non ha soldi? Come farò ad andare a scuola ora? La fata recitò un incantesimo Ed i soldi apparvero nella mano di Pinocchio Mi raccomando non sprecare questi soldi E vai dritto a scuola La fata portò Pinocchio fuori dal circo Cantando con gioia Pinocchio era ancora una volta Soltragetto per la scuola Vedendo Pinocchio che cantava gioioso La losca volpe e il suo amico gatto Taglierono la strada a Pinocchio E fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio Dove stai andando così felice amico mio? Sto andando a comprare i quaderni per la scuola Questi soldi non saranno abbastanza allora Se farai come ti diciamo avrai molti più soldi Cosa dovrei fare? Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico E così anche tu potrai avere un albero di monete Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe Portando via il denaro Il gatto e la volpe scapparono velocemente Lasciato ancora da solo La fata apparve accanto a Pinocchio Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? No In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe Così avvertì Pinocchio Non mentirmi Pinocchio Oppure dovrò punirti Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente Ho comprato quaderni e matite e ma li ho lasciati a scuola Non appena Pinocchio finì la frase Il suo naso cominciò a crescere Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere Alla fine non riusciva nemmeno a muovere la testa Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no! Finalmente comprese il suo errore E disse alla fata tutto ciò che era accaduto Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta La fata fece tornare il suo naso normale Ti perdono perché hai detto la verità Con un altro incantesimo gli ridìa dei soldi che la volpe gli aveva preso E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi Stringendo i soldi nella mano e cantando Pinocchio iniziò di nuovo a camminare Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo Il proprietario del circo che lo aveva catturato Era proprio lì davanti ai suoi occhi Dato che lui era scappato Il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio Voleva punirlo Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare Quando Pinocchio cadde in acqua Non andò a fondo Ma galleggiò Perché era fatto di legno A Pinocchio piaceva molto questa sensazione E iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagno asciuga Ehi! Che succede? Dove sono? Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita In realtà Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante E ora si trovava proprio al centro del suo stomaco Nel frattempo Nel frattempo Geppetto era preoccupato per Pinocchio Ed era uscito a cercarlo Pinocchio! Pinocchio! Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto E gli disse che era caduto in fondo al mare Geppetto chiese aiuto al pescatore Sapendo che Geppetto era una buona persona Il pescatore non poteva rifiutarsi Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare Dopo un po' di tempo arrivò una tempesta La piccola barca non resisteva più alle onde E si distrusse Così Geppetto si trovò in mezzo al mare Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare Così cominciò ad affondare nell'acqua Proprio in quel momento Il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio Inghiottì anche Geppetto Geppetto scivolò giù nella gola del pesce Dritto fino al suo stomaco E sentì la voce di un bambino che piangeva Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente Pinocchio figlio mio finalmente ti ho trovato Ero così preoccupato Sentendo la voce del padre Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime Mi dispiace così tanto di non averti obbedito Papà mio Perdonami farò sempre tutto quello che mi dirai Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto La fata decise di salvarli Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce E le condusse fino alla riva Pinocchio divenne un bambino molto intelligente E dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre Andava a scuola ogni giorno E dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio E decise di dargli un premio Una notte quando Pinocchio stava dormendo Si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo La mattina Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola come sempre Ma appena mise piede fuori dal letto Si accorse che qualcosa era cambiato Guardò prima le sue mani Poi il suo corpo Era scioccato Non era più fatto di legno Era un bambino normale in carne ed ossa Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre Papà guardami Vedendo che Pinocchio era un bambino vero Geppetto fu molto felice Incredibile Ma sei un bambino vero adesso Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia Pinocchio non disse mai più bugie E il suo naso restò sempre così com'era